God bless this country. God bless them. Sì, Giuse. Inviate, caccio che no. Dobbiamo anche un diversivo. Ok. Vediamo un po'. Cosa non ce l'ha fatta? Hmm, questa bandiera, ok. Ok, noi cominciamo qua. Sono pronto. E poi io. Perché non mi lasciate i pagini? Sì, ma quello di rivelerò. A chi tocca? Che carino. Wow, Rabinud! Un gioco da ragazzi. Inguardo! Che beligno. La, è uno di meno. Ti ucciderò. Non fa male. Prendi questo. No. No. Non dirò un dono alla tua vetora. Ma come c'hanno i soldi? Non ci vedo. Si parte. Cosa fa? Quello scasso, fatica è. In guardia. E boom. Sei una stessa. Soldati, all'attacco. Non ti muovere. Mancato. Difenditi per bacco. Prendi questo. Ehi, aspetta. Non fuggire, guardaio. Sei il battuto bene. Soldati, all'attacco. Non ti muovere. Ecco, ne uno che non ci sarà più fastidio. Difenditi per bacco. Arrenditi. In guardia. Uno di meno. Cosa c'è ancora? Chi mi vuole? Anni vericci. Mamma. Andiamo. Ma chi tocca? Ebbene, eccomi. È per una buona causa. Questo ci ha dato. La fiamma di cristallo. Ah, moglio santo. Ok. Si parte. Un pezzo. Cosa c'è ancora? Un gioco da ragazzi. Un rabbi nude. Quanto è questo qua, eh? In guardia. Dai che vi dici, capo. Si parte. Mi dirò un dono alla sua mano. Fa male. Riposa in pace, soldato. Difenditi, per bacco. Ok. Chi mi vuole? Tanto frecce, lo possiamo prendere. Presto detto, presto fatto. Giro, giro, ben. Yuhuuu. Voi mettete qua in postizio, eh? Io e il mio flagello non attendiamo che i vostri ordini. Ebbene. Vieni a batterti, codardo. Per dici, non mi si lascerà mai tranquillo. Ok, qua ci dovrebbe essere un passaggio, signor. Branco di incapaci. Chi sei tu? Cosa c'è laggiù? Cosa c'è ancora? Non ti muovi in guardia. Vuoi morire? Soldati, all'attacco. Consideralo fatto. Non fuggire, codardo. Ti chiamano, guerrier. Là, uno di meno. Esatto. E ora? E una buona cosa è fatta. Capo, capo, morto. Dove? Di là, capo. Guardia, a me. Oh, per la madonna. Per lo strato di intorno, presto. Abbiamo la nostra occasione per uccidermi. Si parte! C'è qualcuno da uccidermi. Voglio una battaglia. Ah, vado. Consideralo fatto. E' bene. Oddio. Consideralo fatto. Farò vedere io. Fa male. Io si darò. Ho sentito i due. Fa male. Ma c'è nessun altro. Fendi questo. No. Presto detto, presto fatto. E' bene. E' bene, eccomi. Ilani ha portato di tiro, canaglia. In guaglia. Sacripante. Addio. E' bene, eccomi. Robin Hood, per servirevi. E' bene, eccomi. Chi l'ha gettata? Finalmente. Cosa ci fa, là? Mai troppo presto. Fermo, là. Avanti. Te la farò vedere io. Will Scarlet, al vostro servizio. Ci siamo. Eccomi. Facciamo questa pengana. Terminato. Passaggio segreto che porta in questa fortezza dove possiamo togliere una bandiera. Anche se abbiamo già distrutto metà guarnicione. Siamo pronto. Il prossimo. Vado, vado. Affermina. Fatevi riconoscere. Riparte. Alto di su. In guardia. Ma... In pace. Andiamo. C'è bisogno di me? Eccomi. Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. F. Perdici. Non mi si lascerà mai tranquillo. Mai troppo presto. Congammo, congammo. Facciamo pazzi. Capiamo prima chi c'è. Andiamo. Ok. Soccorso. Questo è interessante. Questo è interessante. Ebbene. Il prossimo. Perfetto. Ebbene, eccomi. Eccomi. Ti voglio dare un cazzotto. Il prossimo. Perfetto. Ebbene, eccomi. È per una buona causa. Ok, ci siamo ancora. Si parte. Ma chi è che va a stare esplorando? È una buona cosa è fatta. Tu. No. Chi è? Chi è sta? Chi se ne frega. Ok. Attenzione. La bandiera di Riccardo. De qui, Riccardo. Ecco. È stato dato un'allarme. Attenzione. Oh, sì. Cos'è quella? Allarme! Allarme! Ehi! Nemici in vista! Signore! Cosa c'è? Signore! Laggiù! Di là! Presto! Ripieghiamo! Gli operativi scortano i personaggi più in busto. Soccorso! Aiuto! All'assassino! E adesso non siamo punti per combattere. L'esercito giustamente adesso va a rafforzare le zone. Cosa ci fa là? Giustamente vede i morti. E' un po' che fanno. Fondato! Ai vostri ordini, capo! Vai a controllare laggiù! Vado! Ok. Andando è verso questa porta qua. Cosa fa quello scalza fatiche? Anziamo a questo. Ehi! Non ti muovere! Vieni e bambiti! Perbacco! Questo è la coriaccio! Prendi questo! In guardia! Sono pronto! Con gioia! Effetto! Si comincia! E iniziamo! Fatevi riconoscere! A sfondare! Eh? Chi è? Tu? E vai! Buonanotte frate! Sato qui! Yuhuuu! Chi va là? Oh! Prendi questa! Si continua! Non mi si lascerà mai tranquillo! Va bene vado! Il prossimo! A chi vede! Robin Hood Per servirvi! Non c'è nessun altro! Ho soccorso! Oh! Vieni dunque da assaggiare il mio flagello! Teg Diana! Ma c'è ancora! Robin Hood Per servirvi! Fermo la! A chi vede! C'è bisogno di me? Sì sì ci vado! Finito! Si parte! Ti ho visto! Gli arcieri dietro! Oh! Ma che cazzo! Non lo devo uccidere! Ma che vuoi vedere io? Difenditi per barare la falocca! Non lo vedi! Non lo vedi! Oh madonna! Orsu! Fatti sotto! Anche ora vivo! Cucciudo! E' per una buona causa! Non ci può fare senza niente! Vabbè! Avanti! Entriamo! Ne ho fasto due! Robin Hood! Finalmente ci incontriamo faccia a faccia! In guardia! Zotico! Offrirò la tua testa qual dono di matrimonio alla nobile Marian! Sbagliate cerimonia Gisborne! Non è affatto il giorno delle vostre nozze ma quello del vostro funerale! Fatevi riconoscere! Massaggio di questo! Immediatamente! Non mi avrai! Spossa bene! Assaggia questo! Niente non vuoi muovere! Ti difendi piuttosto bene! Ti difendi piuttosto bene! È mio! Ti inciderò! Tutto qui! Ti restituirò questa cicatrice! Sei stanco! Zoticone! Sei stanco! Ti restituirò questa cicatrice! Non mi avrai! Ti difendi piuttosto bene! Tutto qui! Morio! Non è morto! Grazie! Robin siete ferito! Non è che un graffio! Niente di grave! Tanto meglio! Robin dobbiamo abbandonare la città prima che le guardie ci scoprano! Raggiungiamo Sherwood! A Nottingham il pericolo è troppo grande! Ecco una buona idea! Vedrete vi piacerà! Abbiamo delle capanne sugli alberi molto carine! E beh, riconosco che l'arredamento lascia un po' a desiderare, ma posso mandare qualcuno a rubare delle tende? Qualche cuscino? Robin, andiamo! D'accordo, d'accordo, andiamo! Bah! Va-va-va-be! Sì! Sì! Cosa ci fa la... C'è bisogno di me? Buongiorno! Questo è interessante! Parcatila piedi! Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello! Perfetto! Questo è coriato! All'avventura! Sì! 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 Ok ragazzi, abbiamo fatto questa missione! E... E poi? Eh... Bene! Un gioco da ragazzi! E cosa faremo adesso? Perfetto! Vediamo un attimo qua! Vediamo di trovar... Di caccia, una via di fuga! Il punto è adesso è capire dove! Perché qua è troppo difeso! Non c'è niente che possa fare per voi! No! Qua è troppo difeso! Da qua non si può andare! Quindi un'unica zona decente è questa qui! E dobbiamo farci strada... Tra i rimasti! Avanti! Branco di incap... Si parte! Fermo là! In guardia! Freganti! Ma male! Coseresti batterti contro di me? Ma che cazzo è? Ti vedremo tanto presto! Ma Tom! Ma che è? Che c'è ancora? Ma te sei pazzo! Per Riccardo! Ma te sei scemo! Ma guarda qua! Mi sento meglio! E' gentile ma francamente non so! Molto bene! Ma da che pazzo scomeroti! E' una buona cosa fatta! Ma si sapeva comunque il fumaggiamo è devastante! Andiamo! Se ci tenete! Consideralo fatto! Non c'è niente che possa fare per voi! Fermo là! La carità è mio! Vieni qua! E' una buona cosa che possa fare per voi! E' una buona cosa che possa fare per voi! E' una buona cosa che possa fare per voi! Prigante! No! Pronto! Pronto! Cazzotto a questo di nuovo! Sì! E' davvero appassionante! Consideralo fatto! Addio! Avanti! Chi sei tu? Capendo l'ala! Wow! Ravi Nude! Pericato! Attento a te! Mamma! E' boom! Gli arcieri dietro! Te la farò farei io! Coseresti batterti contro di questo? Aia! Batti tu! Prendi questo, marrano! E adesso? Dilettante! Calma! Arrivo! Cosa c'è ancora? Dunque questo è un esempio perfetto! Perché non mi lasciate in pace? E' per una buona causa! Ah! E adesso si ricomincia! Non me ne occupo io! Sì! Sì! Ci vado! Arrivederci! Arrivederci! State buono! Perfetto! Che è successo qua? Ah! Ok! Salviamo subito! Perché non voglio avere ripercussioni! Di nessuna sorta! Perfetto! Angura! Ok! Adesso ci saranno le classiche missioni! Che faremo però nel prossimo episodio! Va bene ragazzi! Il video finisce qua! Spero che il video vi sia piaciuto! Nel caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace! Commentate! E noi ci vediamo sul prossimo video di Robin Hooded! In Agenda of Shepard! Ciao ragazzi! E noi ci vediamo! Ciao ragazzi! Grazie a tutti.